Il progetto rientra nel piano strategico di legislatura su famiglia e natalità ed è volto a creare delle sperimentazioni volte a favorire la transizione traduta dei giovani. Mira a dare opportunità ai giovani 18-35 anni che vivono nell'appartamento con i genitori di fuoriuscire di casa, fare un'esperienza di coabitazione con altri giovani e trovare delle opportunità lavorative tramite i partner dell'autonomia di questo progetto.